Nel ciclo Parco Giochi di Lenna, questa importante opera pubblica che è stata realizzata nel 2016 dall'amministrazione comunale di Lenna, una riqualificazione che interessa 2000 metri quadri di terreno che è stato acquisito al patrimonio comunale tramite il cosiddetto federalismo dei Magnane, un importante recupero che ha permesso di ridare a tutta la popolazione di Lenna, quest'area che si trova in una zona pienamente centrale divisa nel ciclo Parco Giochi che vedete alle mie spalle, con questi giochi nuovi molto ambientati all'interno di un contesto di montana come quello di Lenna, con anche elementi di arredo di pregio e poi alle nostre spalle un parcheggio con più di 20 posti auto. Questo ci ha permesso di restituire, come già detto a tutta la popolazione di Lenna, questa bellissima area e questo è stato possibile grazie al federalismo dei Magnane. Grazie a tutti.